Via libera del governo gialloverde alla proroga per la legge del biminenario vidiano. La notizia che Onda Rigi aveva anticipato almeno due settimane fa è circolata ieri, ma solo oggi è arrivata l'ufficialità del completamento delle nomine del comitato, chieste la scorsa estate dalla DMSI Teredamore ed alcuni amministratori del territorio, fra cui il consigliere comunale di Avanti Sulmona, Fabio Pingue. Sono partite incontri e telefonate fino a Vertice Romano con il sottosegretario Vacca. L'emendamento in questione verrà discusso tra oggi e domani in commissione e bilancio. la Camera dei Deputati. Tutto questo significa che abbiamo salvato dei fondi che erano ormai scaduti, i fondi destinati a Sulmona per la celebrazione della figura vidiana. Interviene la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo, secondo la quale la grande notizia è che il comitato potrà finalmente iniziare a lavorare per celebrare i 2000 anni della morte del sommo poeta latino, dopo essersi arenato nella sua primordiale fase di Costituzione, prevista entro 60 giorni dell'approvazione di una legge del dicembre 2017. Una legge fatta e dimenticata nel cassetto, ma che l'impegno assunto dalla nuova classe politica al comando ha saputo salvare. La Di Girolamo non vuole sentir parlare di passi indietro, contrariamente a quando aveva affermato ieri la deputata PD Stefania Pezzopane, che aveva fatto notare di aver presentato un emendamento identico a quello del governo nel decreto 1000 proroghe, ma purtroppo era stato prima accantonato e poi bocciato. Ma come spendere 700 mila euro che entreranno, si spera, a breve nelle casse del comune? Un'idea ce l'ha l'assessore comunale della cultura Alessandro Bencivenga, che rilancia il parco letterario di Ovidio sul modello di Anversa degli Abruzzi. Il mio costume è non parlare di cose non certe, quindi fin quando non avremo i soldi in cassa non eviterò di parlare, ma sicuramente ci eravamo preparati da tempo a questo evento, anche perché stimolando opportunamente chi di dovere, per fortuna almeno questo emendamento è arrivato e speriamo che venga approvato senza alcun intoppo. Certamente ci sono già delle proposte presentate al comune di utilizzo di queste risorse, le quali però in realtà non sono totalmente appannaggio del comune, nel senso che chi dovrà decidere come spendere queste risorse è il comitato, che è stato in parte nominato dal Ministero e in parte dal Governo, anzi, e in parte di questo comitato fanno parte il Sindaco, chiaramente, il Presidente della DMC e quindi sono loro, e il Presidente della Regione, e sono loro che insieme agli esperti nominati dal Governo sul suggerimento del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dei Beni Culturali dovranno valutare le proposte che il Comune farà. Uno di queste è il parco letterario? Uno di queste potrebbe essere il parco letterario di cui si è tanto parlato e che necessita di fondi, chiaramente, per la sua realizzazione, ma che potrebbe aprire a Sulmona, per il tramite di Ovidio, un mondo, diciamo, pressoché sconosciuto qui, se non per l'esperienza ottima del vicino parco letterario d'annunzio di Anversa e inserire Sulmona in questo circuito dei parchi letterari che, a dispetto di quello che può pensare chi non se ne intende, in realtà genera un movimento, anche in questo caso turistico, non di poco conto.